Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Allora ragazzi oggi sono un pochettino triste, sono veramente desolato E proprio ragazzi tristezza, mi sento un pochettino dispiaciuto per questo Perché oggi ci doveva essere lo special 800 invece non c'è lo special 800 Non posso farlo e cercherò di fare qualcosa per rimediare a questo piccolo problema che si è venuto a creare ragazzi Allora come sappiamo io devo fare un video, devo fare lo special insieme a voi E cosa è successo ragazzi? Purtroppo non mi ha registrato il mio hdpvr per ben due volte ragazzi La prima partita era epica, epica ragazzi, veramente bellissima E non è andata a buon fine Io vi faccio vedere ovviamente il video perché qui il video me lo fa vedere Qui ragazzi stavo incominciando a riprendere, guardate, vado un pochettino avanti Guardate, qui c'è la partita insieme a voi Parlate tutti ragazzi, vi faccio vedere quanti cazzo eravate Io ero contento, ma contento Guardate, aspetta, vado all'inizio Però eravamo 5, 10 ragazzi, 10 persone Per me 10 persone, 10 iscritti che comunque se si mettono a giocare con me Veramente a me mettono un sacco di gioia al cuore, veramente mi rendono felici ragazzi Ovviamente è specchiato, qui mi potete vedere Ragazzi, io vi faccio vedere un pochettino la partita che me la registra perfettamente Adesso c'è ancora più gente ragazzi per dirvi quanti cazzo eravamo ragazzi Io vi faccio vedere un pochettino il tutto perché comunque sia Io, chiudo adesso qui il video Scusate per il ripreso un pochettino merdoso, non vorrei peggiorare la situazione Però io sono veramente ragazzi, sono abbattuto, sono veramente tristissimo Vi faccio vedere ovviamente con il mio Sony Vegas Cosa succederebbe, adesso lasciamolo caricare Ecco ragazzi, siamo su Sony Vegas, come potete vedere Sony Vegas Pro 12 Adesso proviamo a mettere a fuoco Ok, mette a fuoco qui vedete tutti i video Tutti i video che ho pronti, ad esempio se siete iscritti c'è un altro pronto Tutte le mie miniature, le mie intro, i miei programmi Ragazzi, allora, io vi faccio vedere cosa succede Questo è il video ragazzi, ve lo avvicino adesso Ok, questo è il 2013 11 9 16 33 35 che sarebbe il video dei miei iscritti ragazzi Del special 800 Guardate cosa si vede Ve lo rimetto a fuoco Ecco, 230, 213 ragazzi 9 16 33 35 Video 1920x1080x12 0 FPS Progressive 000000 Allora ragazzi, questo 00 che vedete qui ragazzi 00000 è il tempo registrato Questo vuol dire che se io ho registrato 00 il mio video Voi lo vedete in formato normale Mentre nel video, nel video che vorrei costruire, editare Non me lo fa selezionare Anzi, vi faccio vedere cosa succede Sì, io prendo il video e lo sposto nella mia barra Nella mia timeline Spostiamo, bello Spostiamo nella timeline Ok, ecco, è successo, guardate cosa succede L'ho risposto ragazzi perché vi devo far vedere cosa è Allora, vedete cosa succede Il video, sì, si vede tutto l'audio ragazzi Si vede l'audio Ma non si vede il video Io ragazzi sono veramente deluso Sono veramente triste Perché adesso vi faccio sentire Vi faccio vedere cosa si sente Andiamo Ragazzi, si sente il video Giustamente Si sente il video Ma non si vede niente Io ragazzi sono veramente abbattuto Sono veramente triste Perché io ho costruito Abbiamo fatto un video Abbiamo ragazzi Abbiamo fatto un video insieme Adesso passiamo in prima persona ragazzi Ragazzi abbiamo fatto un video insieme Io veramente sono distrutto Perché era veramente un bellissimo episodio 22 minuti ragazzi 22 minuti di divertimento Tra me e voi ragazzi Io sono veramente abbattuto in tutti i sensi Io sono dispiaciuto perché ho fatto un video Insieme a voi Per voi Mi è piaciuto tantissimo Invece mi trovo a dover rimandare Questo episodio Questo special 800 A questo punto A il 900 ragazzi Perché siamo già 850 Spero di poter fare qualcosa insieme a voi Bellissimo per il 900 Spero che ovviamente il mio hdpvr Funga al meglio Perché io veramente ragazzi Sono incazzato nero Un po' questa cosa Ragazzi non so che altro dire Sono distrutto Sapete che io lo faccio con passione Mi dispiace tantissimo Che non sia riuscito a fare un video per voi Veramente ragazzi Spero di poterlo fare al prossimo E niente ragazzi Chiudo qui il video Perché mi dispiace tantissimo Perché ve lo giuro ragazzi Io lo faccio con il migliore intento Di costruire questi video per voi Per incentrarvi nel mio canale ragazzi Perché io lo faccio per voi il video Mica lo faccio per me Solo per me Capito? Ragazzi lo faccio anche per voi Anzi lo faccio principalmente per voi E quindi vedere un lavoro così Duramente creato Ci avevo messo un bel po' per fare questo video E poi su Sony Vegas Non me lo leggi Non posso editarlo Comunque sia vi ringrazio Perché voi siete sempre al mio fianco Per gli 800 iscritti Per gli 800 e passa iscritti Io cercherò sempre di fare dei video sociali per voi Di divertenti E niente ragazzi Grazie per tutto il vostro supporto Vi voglio tanto bene Speriamo di poter crescere sempre ragazzi Sono contento quando cresciamo Quando diventiamo tanti Perché posso coinvolgere più gente ragazzi Anche i vostri amici Tutti quanti ragazzi Io sarò sempre con voi E spero che voi sarete sempre con me Quindi da cura non matate tutto Scusatemi per il momento un pochettino Di delusione Quindi non mi resta che salutarvi Ci rivediamo direttamente martedì ragazzi Così mi date il tempo un pochettino Di editare i vari video E da cura non matate tutto Ci vediamo alla prossima Ciao raga